Ciao ragazze! Oggi volevo farvi vedere il sistema che ho trovato per poter sistemare meglio i miei tamponi di inchiostri e soprattutto i miei distress ink. Ho guardato un po' di video su YouTube e ne ho trovato uno che faceva proprio al caso mio. Vi lascio il link nel box informativo. Ho fatto tutto con materiale di riciclo. Questo è il risultato. Praticamente ho utilizzato due scatole di scarpe che ho tagliato a misura dei miei distress e ho creato dei piccoli scaffalini incollando altri pezzi di cartone. Ci sono i fili della colla caldo per separare appunto i vari tamponi. Questo perché io li tenevo impilati uno sopra l'altro in questo modo e ogni volta che mi serviva un inchiostro che era in fondo dovevo spostarne altri 10 e quindi insomma lo trovavo scomodo come sistema. In questo modo ogni inchiostro ha il suo scomparto e quindi mi è più facile poterli prendere. Inoltre in ogni inchiostro ho attaccato questa etichetta fatta con la dimmo dove ho scritto il nome dell'inchiostro. Però è possibile e secondo me è un sistema più funzionale fare così praticamente prendere un pezzo di carta bianca stampare al computer o scrivere anche a mano con un pennarello indelebile il nome dell'inchiostro. Quindi ad esempio o timbrarlo con i timbri insomma scegliere un po' il proprio metodo quello che più piace quindi scrivere il nome dell'inchiostro aspettate che trovo un pennarello indelebile. Ad esempio questo il giallo allora io mi ricordo perché essendo fissata con i distress mi ricordo perfettamente i colori e non ho bisogno di avere il riscontro visivo del colore. Però volendo si può scrivere il nome del distress con appunto un pennarello indelebile o stampato al computer. Dopodiché si taglia la strisciolina e la si colora con l'inchiostro quindi in questo caso con mustard seed. E al posto di attaccare come ho fatto io semplicemente il nome si ha l'etichetta con il nome e il colore e per ogni distress si fa in questa maniera così si ha anche il riscontro visivo del colore che è disponibile. Questo per quanto riguarda tutti i tamponi d'inchiostro non solo i distress. Da questa parte ho ancora dei comparti vuoti perché uno mi deve arrivare, lo sto aspettando e poi insomma conto di ampliare la collezione. Nel frattempo ho utilizzato gli scomparti per mettere gli altri tamponcini di inchiostro che ho. Ho messo i miei blocchi acrilici e ho inserito anche i miei stickles e il mio glossy accent qua. Metterò probabilmente anche qui un adesivo rotondo, un'etichetta rotonda dove scrivo quello che sono. Qui in alto ho momentaneamente sistemato gli steson, questi quattro e il Versafine nero. Conto di fare un'altra scatola con gli scomparti della misura degli steson e del Versafine che hanno più o meno la stessa misura. Di modo anche questi da averli singolarmente in ogni scaffale. E' molto semplice costruire questo sistema di archivi o dei tamponi di inchiostro. Basta solo avere delle scatole di cartone, degli altri pezzi di cartone per fare gli scomparti e della colla a caldo. Dopodiché si può pensare di rifinire il prodotto con i colori acrilici, piuttosto che con dello scotch per rinforzare le varie estremità. Insomma si può pensare di fare qualsiasi cosa. Questo è quello che volevo mostrarvi. Spero di avervi dato una buona idea per la vostra sistemazione del materiale. Io sono molto contenta. Alla prossima. Ciao ciao!